ciao a tutti buongiorno eccomi qua sono melissa di onda vitale e volevo diciamo pubblicizzare scusate che mi sposto perché non mi ci si vede volevo ancora volevo pubblicizzare perché merita il laboratorio che faremo sabato 14 di settembre quindi questo sabato sulle verdure fermentate perché vi parlo di verdure fermentate e perché abbiamo deciso di fare questo laboratorio le verdure fermentate sono una cosa facilissima da da apprendere per chiunque non pensate che chi non è un cuoco uno chef o chi non è abile in cucina non possa imparare a fermentare le verdure perché è una cosa veramente semplice servono solo dei barattoli acqua e sale e la verdura o la frutta preferita si può in questo caso sabato faremo le verdure due tipi di verdure per come esempio poi potete fermentare qualunque cosa perché la tecnica è sempre quella sarà una bellissima cosa ma l'abbiamo fatto soprattutto perché le verdure fermentate sono un tocca sana per l'intestino noi siamo naturopati parliamo sempre di che la salute passa dall'intestino che il benessere passa da questo importantissimo organo che il nostro secondo cervello e possiamo avere a disposizione dei probiotici naturali fatti appunto dalle verdure fermentate in maniera del tutto semplice veloce naturale quindi basta procurarsi le verdure che saranno due carote e cavolo cappuccio cavolo cappuccio due barattoli poi se qualcuno vuole potremo indicare noi che tipo di barattoli possono prendere oppure se li portano e un asse un quindi un tagliere di legno e un coltello per tagliare le verdure dopodiché acqua e sale li forniamo noi e servirà semplicemente mettere nel barattolo con acqua e sale le verdure tagliate con qualche spezia ricoprirle con la salamoia e aspettare il tempo dovuto è tutto molto lineare molto veloce molto semplice non c'è nessun pericolo che si sviluppi il botulino perché la fermentazione fa sì che si sviluppino solo dei batteri buoni quindi che sono benefici per la nostra salute non c'è rischio di nessun genere anche se non si fanno le cose in maniera completamente precisa non c'è nessunissimo tipo di rischio sarà una mattinata insieme due ore e mezza ma prima faremo una breve introduzione teorica e poi andremo a tagliuzzare insieme quindi sarà una bellissima esperienza soprattutto vi porterete a casa qualcosa di utile che potrà dare un tocco in più alla vostra cucina sempre nel rispetto della salute del benessere cosa si vuole di più vi aspettiamo potete contattarci al 351 582 88 19 e vi diamo tutte le informazioni del caso sarà dalle 9 30 a mezzogiorno o dalle 9 alle 12 30 adesso non ricordo più comunque ecco l'orario quello grazie a tutti e buon proseguimento